Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui per parlarvi dei giochi gratuiti in arrivo per tutti gli abbonati al PlayStation Plus di giugno 2021. Questo mese avremo tre giochi, due titoli PS4 e uno PS5, scaricabili tutti dal primo giugno 2021, ma iniziamo subito. Primo gioco per PS5 è Operation Tango, titolo che metterà i giocatori nei panni di due spie in un'avventura da vivere in Coop, ricca di enigmi da risolvere e situazioni in cui sarà necessario non farsi scoprire per portare a termine le varie missioni. Come titolo PS4 abbiamo invece Star Wars Squadrons, ultimo titolo ambientato nell'universo di Star Wars, che ci mette alla guida delle astronavi della Resistenza o dell'Impero. Terzo e ultimo titolo per PS4 è Virtua Fighter V Ultimate Showdown, riedizione del picchiaduro Sega ricostruito con il Dragon Engine, motore grafico della serie Yakuza. In questo capitolo è stata immessa una modalità di gioco che si basa sull'addestramento del personaggio. Cosa ne pensate di questi giochi gratuiti per il mese di giugno 2021? Noi sicuramente li proveremo tutti, voi siete soddisfatti oppure no? Fatecelo sapere con un commento e se il video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. A la prossima!